Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nell'usuale disordine della mia biblioteca, della mia libreria. Allora, come forse ricorderete io sono purtroppo un ex motociclista, dico ex motociclista perché ripeto a causa di problemi dovuti a... di problemi alle ginocchia e alla schiena, dovuti anche che ha un brutto incidente motociclistico, che insomma ha un frontale contro un golf che ho fatto con la moto una venticinquina d'anni fa circa, dicevo non sono più un motociclista praticante, ma l'amore per le moto mi è sempre rimasto e mi è, diciamo, sono sempre stato un grande appassionato delle moto d'epoca. Qualche tempo fa ho trovato in un negozietto di articoli in stock questo libro di Sandro Colombo, eccolo qua, Gilera 4, tecnica e storia. La Gilera 4 cilindri, la storia della Gilera 4 cilindri, che è una della Gilera 4 cilindri 500, che è una delle più prestigiose, delle più meravigliose creature motociclistiche della storia delle due ruote motorizzate, della storia della moto. La Gilera 4 cilindri non nacque in Gilera, ma nacque dall'impegno di una piccola ditta che si chiamava CNA, Costruzioni Nazionali Aeronautiche, che era nata come fabbrica di aerei, costruivano piccoli aerei da turismo, ideata dal conte Bonmartini, questa CNA, ebbero l'idea di costruire la rondine. Qui vediamo il suo pilota e tecnico, Piero Taruffi. Guardate un po', guardate un po' che cosa era negli anni 30 la rondine. Piero Taruffi ha in mano questa quattro cilindri, cioè notate il telaio, si dovrebbe vedere abbastanza bene. Negli anni 30 la CNA aveva studiato questo telaio in lamiera stampata di tipo aeronautico, traforata per essere alleggerita, una struttura che come vedete ricorda tantissimo i moderni telai Delta Box e nello specifico ricorda molto il telaio delle vecchie Suzuki GSX, quelle raffreddate ad aria e olio degli anni 90. Non so se ve le ricordate, ma me le ricordo molto bene io, detta com'è. Però comunque sia, era una moto sicuramente all'avanguardia. Quattro cilindri, 500 cm3 di cilindrata, una moto sovralimentata a compressore. Costruita per dare una visibilità, insomma costruita come mezzo pubblicitario e promozionale per la CNA, ebbe una brillante carriera sportiva prima che la CNA fosse costretta a chiudere baracca Burattini, a cedere il reparto aeronautico alla Caproni e le moto alla Gilera, che poi sostituì il modernissimo telaio che vi ho fatto vedere con una più convenzionale struttura in tubi. Eccola qua. Questa era la Gilera quattro cilindri, 500, compressore, dopo praticamente che fu presa in mano dalla Gilera. La rondine, il motore è rimasto lo stesso, ma è cambiato il telaio, come vedete. Una certa differenza, diciamoci la verità, eccola qui. Ripeto, guardate la differenza, guardate la differenza. Il telaio e la mera stampata, ripeto, che prefigurava molto le moderne strutture Delta Watch, ma come dire, Gilera, il commentatore Giuseppe, Giuseppe Gilera era molto sparagnino e amava molto poco le soluzioni, le soluzioni moderne. Ah, guardate, nel libro di Colombo c'è anche questa foto, guardate un po', guardate un po', c'è anche questa foto. Mussolini, Mussolini con il conte, allora, questo è Benito Mussolini all'aeroporto dell'Urbe, che era praticamente la casa delle CNA, sta guardando la rondine. A fianco della rondine, con uno sguardo preoccupatissimo, perché si trattava di un mezzo unico e straordinariamente costoso, il conte Bombardini nella sua tenuta di Gerarca del PNF. Era una visita ufficiale del duce e quindi il conte Bombardini doveva indossare la divisa in orbace. Come dire, c'è una storia curiosa che riguarda la rondine, la CNA rondine, prima che diventasse Gilera. Risale praticamente al 31 marzo 1935, ci dice Sandro Colombo, per il Gran Premio di Tripoli, una gara valevole per il campionato italiani. Allora, il velocissimo, ci scrive Colombo, il velocissimo tracciato della Mellaha dovrebbe essere il più donio alle caratteristiche velocistiche della rondine, ma le poche prove effettuate sono ben lontane dal dare le necessarie garanzie di affidabilità per una corsa di 327 chilometri tirati dall'inizio alla fine. Avversarie qualificate sono le tre bicilindriche Motoguzzi, in mano a campioni del calibro di Bandini, Tenni e Daldrighetti, e la nuovissima Benelli motocilindrica bialbero affidata a Guglielmo Sandri. Soprattutto le prime, le guzzi, sono da tempo sperimentate ed affidabili. Allora, la gara si svolge con vari tratti della pista che sono flagellati da un forte vento, il fondo è accidentato, Bandini cade al quindicesimo giro a causa di una perdita d'olio. Tenni, che ha segnato il miglior tempo della giornata, si ritira subito dopo per la rottura della catena e al ventunesimo dei 25 giri si ritira anche l'ultima guzzi, quella di Giordano Aldrighetti. Al ventesimo giro Taruffi si era già comunque portato al comando della gara e le due CNA rondine, con una condotta regolare, si piazzano ai primi due posti. Secondo lo staff della CNA, questa condotta di gara era stata concordata in anticipo e le due moto sarebbero state comunque in grado di riprendere il comando negli ultimi giri, anche senza il ritiro delle moto guzzi. Un'affermazione che lascia però molte perplessità perché la differenza tra il giro più veloce di Tenni, ovvero sia 4 minuti e 25, e quello di Taruffi, 4 minuti e 39, era evidente, ma il Gran Premio di Tripoli entra nella storia non tanto per la vittoria della CNA rondine, quanto per un fatto importante che avrà, secondo molti, un peso imprevisto sul futuro della Compagnia Nazionale Aeronautica. Qualche settimana prima della chiusura delle iscrizioni, l'asso inglese Stanley Woods chiede di partecipare alla corsa a fronte del riconoscimento di un determinato ingaggio. La cifra, tutto sommato, è modesta, ma il reale motoclub d'Italia, sentito il commissario per il turismo in Libia, che è l'ente finanziatore della manifestazione, non può corrisponderla. Viene informata del fatto la Moto Guzzi e l'ingegner Parodi, proprietario della Guzzi, regola di persona le iscrizioni degli altri piloti della casa di Mandello, ma non quella di Woods, nel frattempo influenzato. Una successiva richiesta di inserimento di Woods fra i partenti, fatta dopo la chiusura delle iscrizioni, secondo la rivista Motociclismo dell'epoca, non viene accettata dagli organizzatori perché fuori tempo, ma secondo altre fonti è stato lo stesso conte Bonmartini a presentare un energico reclamo per far escludere Woods, pilota Guzzi, dalla lista dei partenti nella quale era stato incluso per interessamento diretto di Italo Balbo a quel tempo governatore della Libia. L'accoglimento del reclamo e l'esclusione di Woods presente a Tripoli, perché Woods c'era andato a Tripoli, evidentemente non fanno piacere a Balbo, che si rifiuta di dare come previsto la partenza delegando in sua vece l'onorevole Melchiorri. E fin qui ci sarebbe, come dire, poco da discutere. Il problema fu che, come dire, Balbo se la legò al dito questa storia della mancata partecipazione di Woods al Gran Primo di Tripoli del 35. Allora, la CNA, la CNA Rondine era una moto eccezionale per i tempi, modernissima. Avete visto il suo meraviglioso telaio che prefigurava veramente strutture moderne. Ma nonostante tutte queste valide premesse, la storia della Rondine come tale non ha più un seguito. Cioè, dopo alcune vittorie, la fine della CNA, scusate, l'attività motociclistica della CNA è coinvolta nella profonda crisi in cui cadde la piccola ditta costruttrice. Allora, secondo alcune voci, la chiusura della CNA sarebbe da mettere in relazione con gli avvenimenti del Gran Premio di Tripoli. In altre parole, Italo Balbo, che era sempre molto ammanicato nel Ministero dell'Aviazione, avrebbe negato commesse militari alla ditta del Conte Bonmartini, in relazione all'opposizione da lui fatta alla partecipazione di Wutz al Gran Premio di Tripoli. Balbo era permaloso, era permaloso bene, ok? È una supposizione avvincente in quanto il fatto può anche aver avuto una certa influenza. Ma, oggettivamente, e qui Colombo è molto chiaro, non bisogna dimenticare che c'erano cause ben più concrete. Ben altri nomi dell'universo aeronautico italiano, cioè Caproni, Breda, Savoia Marchetti, Fiat, per non citare che le più importanti, operavano in quegli anni in Italia in campo aeronautico con mezzi molto maggiori rispetto a quelli della CNA e che, come abbiamo visto, la scelta di un prodotto alternativo come la moto era già stata indicata nel 1933 come una delle possibili vie di uscita da una crisi in cui la CNA si trovava già allora. Quindi, in pratica, lo smantellamento della CNA, diciamo, non fu tutta o solo colpa di Balbo. Diciamo che la CNA era una industria, una piccola industria, che produceva sì prodotti di avanguardia e, ripeto, il telaio della rondine parla chiaro, ok? Così come parla chiaro la quattro cilindri, Bialbero, la quattro cilindri col compressore, un'impresa non da poco mettere in moto un simile bestione che poi, diciamo, divenne anche immortale come vincitrice, come titolare di importanti primati di velocità. Allora, dicevo, l'attività motociclistica, allora, la CNA fu ceduta al gruppo Caproni. L'attività motociclistica non interessava la Caproni, che, ironia della sorte, si mise a fabbricare motociclette nel dopoguerra e c'è da dire una cosa, le motociclette Caproni nel dopoguerra erano piccole motociclette, cilindrata massima 175-250 così, ma le motociclette Caproni per l'epoca erano estremamente all'avanguardia, contrariamente agli aerei della Caproni. Insomma, sapevano fare meglio le motociclette che non gli aerei, quelli della Caproni, ma lasciamo stare. Allora, praticamente la CNA cede il comparto aeronautico alla Caproni, che, come ho già detto, non seppe minimamente sviluppare le idee innovative della piccola compagnia nazionale aeronautica, preferendo, come dire, le più tradizionali e più redditizie costruzioni tradizionali. Ecco, cioè, erano molto più redditizie per la Caproni. Insomma, diciamoci la verità, la Caproni non fu, certo, tra le più innovative industrie italiane. Anzi, era sì, il gruppo Caproni controllava sì la Reggiane, che era il polo tecnologico e di avanguardia del gruppo Caproni, ma in realtà il gruppo Caproni fu sempre, si dimostrò sempre estremamente conservatore, sparagnino e soprattutto produsse aeroplani non propriamente esaltanti, ok? E ne sanno qualcosa i nostri evatori con i bimotori della serie 311, ma questo è un altro discorso. Insomma, la Gilera 4, ecco qua Taruffi, nel 1935 con la sua creatura, uno dei grandi personaggi del motociclismo italiano, del motorismo italiano, la Volpe Argentata, grandissimo sulle due ruote, grandissimo sulle quattro ruote, straordinario come progettista e come tecnico, un grande ingegnere, un grande ingegnere, un grandissimo pilota, detta così com'è. E soprattutto fu tra gli ideatori di una delle moto più straordinarie della storia, ovvero sia la Girirarondine, ve la faccio vedere di nuovo. Ripeto, si vede molto bene in questa bellissima foto, guardate la struttura del telaio, guardatela bene, guardatela bene, siamo nel 1934 e guardate qua il telaio. Cioè, eravamo in questo campo, l'innovazione era italiana, ma non la sapemmo sfruttare, avevamo la possibilità di progredire, di avanzare, ma che cosa? La crisi, una struttura piccola come la CNA, non poteva reggere la concorrenza dei grandi gruppi. E l'inimicizia tra il proprietario della CNA, il Conte Bonmartini, e Balbo, ahimè, fece il resto. Come dire, ripeto, una storia, quella delle quattro cilindri, quella delle quattro cilindri CNA-Gilera, che è leggendaria, tant'è che, ricordiamoci, le Gilera quattro cilindri della seconda serie, che non avevano lo stesso motore, ma erano derivate come architettura dalle Gilera degli anni 30. L'architettura, erano motori diversi, ma l'architettura di base, le impostazioni di base rimaneva sempre quella della quattro cilindri in linea, fronte marcia, bialbero, il più compatta e il più potente possibile. La Gilera a quattro cilindri ha corso fino alla metà degli anni 60 e non c'è male, e ricordiamoci che dopo il ritiro della Gilera del 1957 furono motociclette che non furono più aggiornate, a parte alcune piccole cose, tipo un cambio a sette marce che non funzionava mai e alcune piccole modifiche al motore, ma niente di serio così. Insomma, la Gilera a quattro, la CNA rondine, era una moto assolutamente all'avanguardia, era una moto, come dire, straordinaria, una moto eccezionale, cioè guardate qua il motore, guardate qua il motore, guardatelo bene, questo è il motore della CNA rondine, che poi divenne Gilera. Un capolavoro di compattezza e di eleganza meccanica, uno straordinario quattro cilindri bialbero con compressore che per l'epoca erogava potenze terrificanti, tant'è che nel 1939 il nostro Dorino Serafini divenne campione d'Europa, che all'epoca era l'equivalente di un campionato del mondo, guidando proprio la Gilera quattro cilindri 500 compressore contro una marea di satanassi inglesi tedeschi e francesi. Piccola curiosità, altra piccola curiosità, il rivale di Dorino Serafini per la conquista del campionato europeo. Uno dei rivali di Dorino Serafini nel 1939, durante il campionato europeo, fu il pilota della AJS Walter Rusk, che guidava una potentissima, anche in quel caso bicilindrica, con compressore. Walter Rusk durante la guerra divenne pilota di Hurricane e perse la vita in un incidente di volo nel 1941. Tutto lì. Comunque sia, cari signori, scusatemi per la digressione, per questa mia vecchia passione per le moto d'epoca, ma era una piccola curiosità che vi volevo raccontare. Ripeto, ripeto, ripeto. 1934, Piero Taruffi con la sua CNA rondine e guardate bene il telaio. Ripeto, guardate bene il telaio. Ci sono voluti 50 anni per rivedere una moto italiana con un telaio di questo tipo. Pensiamoci bene. È tutto qua. Siamo un paese refrattario all'innovazione. C'è niente da dire, però, vabbè, lasciamo perdere. Quindi, signori, ripeto, scusate ancora per la divagazione extrabellica, ma, insomma, ogni tanto mi piace tirare fuori queste storie alle qui. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.